Quali sono i migliori lesi portfoglio? Una strategia di investimento sempre più popolare per chi desidera ottenere un ritorno solido con un minimo sforzo di gestione e con costi solitamente minori rispetto al solito. Beh, nel video di oggi esploreremo in dettaglio cosa sono i lesi portfoglio, quali sono i loro principali vantaggi e come puoi implementare questa strategia per migliorare le tue finanze personali e soprattutto quali siano i migliori sul mercato con uno storico di ben 30 anni. Che tu sia un investitore principiante o esperto, questo video ti fornirà le informazioni necessarie per comprendere e utilizzare efficacemente i lesi portfoglio nel tuo percorso verso il successo finanziario. Bene, prima di vedere quali siano a mio parere i migliori e ovviamente non mi metto a menzionare quelli più famosi, ma ho delle chicche per voi, cerchiamo di capire quali siano i lesi portfoglio perché i neofiti possano appunto comprendere bene cosa siano. I lesi portfoglio sono una forma di investimento passivo progettata per semplificare il processo di gestione degli investimenti riducendo al minimo l'intervento dell'investitore nel tempo. Queste strategie si basano sull'allocazione di asset diversificati all'interno di un portafoglio che solitamente è ben bilanciato in modo da ottenere un'esposizione adeguata ai vari mercati finanziari con un rischio che sia moderato. La filosofia alla base dei lesi portfoglio si basa su principi dell'investimento passivo e della diversificazione per cui ogni investitore che va a seguire questa strategia tende a evitare l'attività di selezione di titoli individuali o il tentativo di andare a cronometrare il mercato preferendo invece di investire in ETF che vanno a replicare gli indici di mercato. I lesi portfoglio sono noti per la loro semplicità e facilità di gestione e in genere un lesi portfoglio è costituito da pochi ETF che coprono un'ampia gamma di asset come azioni statunitensi, internazionali, obbligazioni e talvolta anche materie prime o altri asset diversificati e questa suddivisione consente a chi investe di ottenere un'adeguata diversificazione riducendo nel contempo il rischio specifico legato ai singoli titoli o ai singoli settori. Oltre a questo uno dei principali vantaggi dell'lesi portfoglio è la riduzione dei costi e dell'attività di gestione. Investendo in fondi a basso costo che vanno a replicare degli indici ampi di mercato si possono evitare commissioni elevate e mantenere una strategia di investimento a lungo termine senza la necessità di andare a monitorare in maniera frequente o di andare a prendere decisioni di trading che siano molto complesse. Inoltre i lesi portfoglio possono offrire una maggiore tranquillità a chi investe perché vanno a seguire una strategia di investimento che è ben diversificata e stabile nel tempo. Anche se i rendimenti possono variare in base alle condizioni di mercato l'obiettivo principale dell'lesi portfoglio è quello di ottenere un ritorno solido nel lungo periodo senza dover dedicare eccessivo tempo o risorse alla gestione attiva del portfoglio. Andiamo a vedere alcuni di questi che sono delle chicche 10 anzi in realtà 11 perché l'ultimo è proprio una vera chicca. Il primo portfoglio si chiama JL Collins Simple Path to Wealth Portfoglio. Andiamo a vedere l'asset allocation e i ritorni. Prima di tutto è un portfoglio lesi che si può fare con soli 2 ETF. Va a essere composto dal 75% di stock americani large cap e dal 25% di bond americani all term. Quali sono i rendimenti di questo portfoglio? Vediamo che sui 153 anni di storico questo portfoglio ha reso in media l'8.29%. 153 anni mica è poco eh. 9,04% sui 3 anni, 9,41% sui 10 anni, un 10,62% sui 5 anni, un 22,21% sull'anno e al di sotto possiamo trovare anche quello che è il rendimento all'annualizzato aggiustato all'inflazione. Un portafoglio che nella sua epoca storica di 153 anni ha reso un 6% più o meno anno aggiustato all'inflazione. Che male non è? Possiamo vedere anche i drawdown massimi di questo portfoglio. Il massimo è stato un 65% ma ovviamente essendo basato su 153 anni in questo portfoglio è incluso anche la crisi del 1929 e ci sta. Comunque diciamo che ad un lungo termine i drawdown massimi sono intorno al 40% sui 10 anni e il 26% e mezzo circa di drawdown massimo. I prossimi due portfogli sono di Billy Bernstein, tutti lo conoscete per i vari libri che ha scritto. Il primo si chiama Sheltered SEM 100 0 Portfolio. Andiamo a vedere l'asset allocation, i rendimenti e i drawdown. Per quanto riguarda l'allocazione abbiamo un 25% di value stock americani, un 20% di large cap americani, un 15% di small cap 600 value stock, un 10% di real estate, un 7% di EAFE stock. I EAFE sono Europe, Australasia e Far East. Insomma sono una categoria di investimento un po' più ampia, si può dire quasi un world. Poi abbiamo un 5% di emerging market, un 5% di core small cap, un 5% di FTSE Europe, un 5% di Asia Pacific e infine un 3% di physical precious metal basket, per cui tutti i metalli preziosi. Per cui è un portafoglio un po' più complesso da gestire. Andiamo a vedere i rendimenti di drawdown. Per quanto riguarda questo portafoglio abbiamo 48 anni di storico ha dato in media un 12% di rendimento su questi 48 anni, di cui 8,5% è aggiustato all'inflazione, sui 30 anni un 9%, sui 6,35% è aggiustato all'inflazione e sui 10 anni un 8,31%, 5,39% è aggiustato all'inflazione. Vediamo i drawdown. Su questi 48 anni il drawdown massimo è stato un 55,66%, sui 30 anni anche questo e anche sui 20 anni è stato il drawdown massimo. Il drawdown sui 10 anni è un 25,83%, quindi drawdown minore rispetto al portafoglio che abbiamo visto prima, comunque, il drawdown di una certa intensità. Invece quest'altro portafoglio di Bernie Bernstein, che è il terzo che andiamo a vedere, si può fare con 9 ETF, si chiama Cowards Portfolio, il portafoglio dei codardi. Andiamo a vedere gli ETF, i drawdown e i rendimenti. Per quanto riguarda l'allocazione abbiamo un 15% di large cap, un 10% di small cap 600 value, un 10% di value stock, un 5% di emerging market, un 5% di standard and poor small cap, un 5% di Europa, un 5% di Asia Pacific, un 5% di real estate e un 40% di bond a breve termine, da 1 a 3 anni. I rendimenti sui 48 anni di storico sono un 9,68%, 5,84% all'inflazione, sui 30 anni sono quasi un 7%, un 4,35% aggiustato all'inflazione, 10 anni un 5,61% con un 2,76% aggiustato all'inflazione. Drawdown aggiustato all'inflazione un massimo di 33,8%, sui 30 anni anche questo è l'importo, così come sui 20 anni, mentre sui 10 anni un 21,40%, ancora meno volatile rispetto agli altri due precedenti. Il quarto portfolio si chiama Alpha Architect Robust Portfolio e si fa con 8 ETF. Per quanto riguarda l'allocazione abbiamo un 30% sul Momentum USA, un 10% sul real estate, un 7,5% sulle small cap che distribuiscono dividendi, un 7,5% sulle small cap 600 value, un 7,5% sulle stock value, un 7,50% sulle half e value, ricordo Europe, Australasia e Far East, un 20% sui bond a medio termine tra i 3 e 7 anni e infine un 10% sul commodity index and trust, per cui su commodity misto. Per quanto riguarda il drawdown aggiustato all'inflazione abbiamo un 45,12% massimo, così lo stesso importo è sui 30 e sui 20 anni, mentre sui 10 anni il drawdown massimo è stato un 23,50%. Il portfolio successivo si chiama Aimways Shield Strategy Portfolio e si può andare a costituire con 6 ETF. Una allocazione un po' più semplice con un 21% nello standard P500, un 16% sul Nasdaq, un 5% sul minimum volatility USA, un 22% su investment grade corporate bond, un 16% sulle obbligazioni a medio termine tra i 3 e 7 anni ed infine un 20% sul gold trust. Lendimenti abbiamo uno storico di 39 anni, 9,48%, 6,52% aggiustato all'inflazione, sui 30 anni 8,74% 6,07% aggiustato all'inflazione e sui 10 anni 7,87% di cui un 4,96% aggiustato all'inflazione. Vediamo i drawdown. Per quanto riguarda i drawdown qui sono minori rispetto agli altri con uno storico di 39 anni, 24 e 13% di drawdown massimo sui 39 anni, cosa che si rispecchia sui 30, sui 20 anni e sui 10 anni. Il prossimo ETF si chiama The Dollar Invest 3 Portfolio. Questo portfoglio si può fare con soli due ETF, andiamo a vedere quali sono e qual è il loro rendimento e il drawdown. In pratica abbiamo un 70% sulle large cap USA e un global large cap 30%, per cui è un 100% azionale questo portfoglio. Abbiamo uno storico di 54 anni per questo portfoglio, un 10% massimo 5,90% aggiustato all'inflazione, sui 30 anni 9,11% 6,43% all'inflazione, sui 10 anni 10,93% con un 7,93% aggiustato all'inflazione. I drawdown ovviamente essendo 100% azionario anche sui 54 anni sono molto importanti, un 53,64% massimo, mentre sui 30 e sui 20 anni abbiamo un 53,52% e sui 10 anni un 28,96% di drawdown massimo aggiustato all'inflazione. Andiamo a vedere Warren Buffett portfolio. Come ETF abbiamo un 90% di Stati Uniti large cap e un 10% di short-term bond, quelli da 1 a 3 anni. Sui 153 anni di storico abbiamo un 8,74% di rendimento con un 6,48% aggiustato all'inflazione, sui 30 anni un 9,85%, 7,15% aggiustato all'inflazione, sui 10 anni un 11,45% aggiustato all'inflazione, un 8,44%, rendimenti di tutto interesse. Drawdown massimi ovviamente con uno storico così lungo, 153 anni, abbiamo un 73,85%, un 47,08% sui 30 anni, un 46,42% sui 20 anni e un 27,11% sui 10 anni. Il prossimo si chiama Vanguard Life Strategy Growth Fund Portfolio e questo va a essere costituito da 4 ETF. Gli elementi costitutivi di questo portafoglio sono un 48% del total stock market, un 32% di Fuzzi All World e Sturz sugli Stati Uniti d'America, un 14% di total bond market e un 6% di total international bond. Anche qui uno storico lungo, 39 anni, un 9,52%, sul massimo dei 39 anni, 6,55% aggiustato all'inflazione, 7,70% sui 30 anni, 5% circa l'inflazione, sui 10 anni un 7,56%, 4,66% aggiustato all'inflazione. E per quanto riguarda i drawdown, sui 39 anni abbiamo un 45,10% che si va a rispecchiare anche sui 30 e sui 20 anni, mentre sui 10 anni abbiamo un drawdown massimo del 28,14%. Abbiamo poi un portafoglio per i mid-50s, per chi i vecchiacci come me, Barton Malkiel, anche lui scrittore molto importante, conoscete il libro e se non lo conoscete andate a leggerlo. Questo portafoglio si fa con 8 ETF. Abbiamo un 27% di total store market, un 14% di emerging market, un 14% di EAFE, un 12,5% di dividend appreciation, un 12,5% di immobiliare, 7,5% di emerging market bond, un 7,5% di investment grade corporate bond e un 5% di short term bond da 1 a 3 anni. Anche qui abbiamo uno storico di 39 anni, un 10,19% sul massimo dei 39 anni, 7,2% aggiustato all'inflazione, 30 anni 8,5%, 5,64% aggiustato all'inflazione, 7% sui 10 anni e un 4,11% aggiustato all'inflazione. Drawdown massimali, 47% circa sui 39 anni, cosa che si va a rispecchiare sui 30 e sui 20 anni, mentre sui 10 anni abbiamo un drawdown massimo del 28,46%. Arriviamo al penultimo dei portafogli, Aggressive Global Income Portfolio, un portafoglio che si fa con 4 ETF. Abbiamo un 30% di Standard & Poor's Dividend International, un 30% di High Dividend Yield, un 20% di US Small Cap Dividend e un 20% di High Yield Corporate Bond. Come rendimento abbiamo uno storico di 45 anni, un 10,97% sui 45 anni, aggiustato all'inflazione, 7,30%, sui 30 anni un 8,62%, 5,94% aggiustato all'inflazione e sui 10 anni 5,36%, 2,51% aggiustato all'inflazione. Andiamo a vedere i drawdown. Sui 45 anni abbiamo un 53,41% di massimo drawdown che si va a rispecchiare anche sui 30 e sui 20 anni, mentre sui 10 anni abbiamo un 23,96%. Andiamo alla chicca. Questo portafoglio è conosciuto da tutti, ma questo, così come è fatto, è veramente una cosa molto particolare. Abbiamo infatti un 80-20 ma col momentum, per cui questo portafoglio si fa con soli 2 ETF e sono un USA momentum per l'80% e un 20% di Total Bond Market. Abbiamo sui 42 anni di storico un 12,54% con un 9,41% aggiustato all'inflazione e di rendimento, sui 30 anni un 11,32%, 8,58% aggiustato all'inflazione e sui 10 anni un 10,50%, 7,52% aggiustato all'inflazione. E i drawdown? Abbiamo drawdown importanti anche qui, sui 42 anni abbiamo un 44,54% che si va a rispecchiare sui 30 e sui 20 anni, mentre sui 10 anni abbiamo un drawdown massimo del 32,11%. Però è una gran chicca perché è un 80-20 molto più particolare e secondo me molto più performante. Ovviamente di Lazy Portfolio ce ne sono una marea e queste erano solo una goccia nell'oceano, ma era un modo anche per darvi spunto e per farvi vedere che online potete anche cercarvi una vostra metodologia tramite il sito di Lazy Portfolio che vi ho presentato proprio oggi. Bene, vi voglio bene e ci vediamo in un prossimo video. A presto! Ciao!